Il nostro canzone è illustrata da artisti, autografi, plastiziani, pittori. E quindi abbiamo dei testi per fare un po' di noi che hanno un canto che interessano tutte le forme. Qui abbiamo messo i rigiri per fare un po' di collaborazione che ci sono state da un'opertura di distribuire i rigiri e i cantari. Qui abbiamo messo un po' di libri che sono esciuti in 1981, sia libri, due o tre di canzone, ma di noi, critiche in 1980. E qui c'avete un po' di ischi in ottobre, che era un po' di ischi che aveva fatto nell'anio 80, e chi vi può essere e dopo mi sono firmati. Se voi volete un piccolo, non puoi dire. Un po' di libri che aveva fatto l'affice di una iodkea. Qui ha messo i gruppi. E qui abbiamo messo i gruppi. quindi adesso vado a dire questo elemento illegale, di miniatura, elemento illegale dell'università di Mubriga, che abbiamo anche visto che non è stato un po' di stanza, ma è un po' di scuola, un po' di scuola, a un'ottia della rezza di Mubriga, e come siamo un po' di scuola, fuori su ridrace di un tiglio o il gattardo di un gattaro di Jean-Anto che sono abbore e che ne sozietà di tutti questi strumenti che hanno messo i bionetti sono fabriquate un strumento Sopre abbiamo trovato un territorio e musica per diremmo che ci sono Non c'est n'abbiamo mai, non c'est n'abbiamo mai, non c'est n'abbiamo mai, non c'est n'abbiamo mai. Quando ci siamo arrivati a dire che il grande Pisa SEM attribuito alle nuove polifoni corse, ci sono stati e le loro dici che quando ci sono arrivati alle nuove polifoni corse, si troverà il problema di qui e quel Luigi Antoine che ha vinto un concorso di badiere in Aligiani quando ero avuto un po' di Aligiani e dunque in Aligiani non aveva la passion e quindi troverà il problema di qui non sova e le radio che cantava qui maio e a vinto in cui ho troverà e qui dopo già avete un evo di un tempo finito e quindi io ho chiesto ci sono tutti che parla non ci sono che ha vinto soprattutto che cantare e poi o allora o allora la gitarra e e e non perché ci sono qui di 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 che aveva una guitarra borsa. Adiù mi è subito dischetti libri, esempi di approvazione cantata direttamente ispirata da una raccolta di poesia, dunque c'è l'esione, non c'è abbia un po' e c'è di nuovo un'ispo pagi di sopra. Cos'è di un'ispo? Ecco, qual è l'ispo mitico lì, e ci sono un po' di conto, un po' di conto che è interessante e noi, gli studi sull'antarino, Antonio Giosi, di un conto, e l'annisio santa, il formato di Abascole Marchetti si è interessato a liberatore aziendosi e a registrati un po' di conto. Quando ci aveva del nome al Ancho Ruggi c'è un titolo francese, il primo titolo francese, il primo titolo francese, il primo è lui è Badrisse, il secondo, ma è interessante perché un dei suoi paisaggi di Gerardo, proprio maschile, che è un po' di conto che gli studi ha bisogno di un'ispo concierto e che aveva un'ispo particolare, e originale all'epoca. Siamo arrivati nella nostra scresione originale. Questo gruppo era un gruppo, si era un gruppo di una strada di unico che era un bifasci from Sibuski, ma anche se non mi ha dato che è tutto che era un bifasciato, ma si non mi è solo! Questo gruppo era un gruppo che era un gruppo di uno che era da Cristobal e di una screta che era un gruppo di una tromba di una memoria Nessun gruppo era un sistema di una musica sola una musica particolare allora non c'è questa musica lui e lì già vieno messo desti origini e cantano giusto appunto desto fondatore di origini e un adora l'escultura dunque l'anello io sangue e guidi rancorna ubalo non ta udier tui anna dura e dormi l'arrivo non c'è un'anello che si è la ducù non c'è un'anello che si è un'anello che dice un'anello che dice un po' di bastori e musicanti come mi pare che generano tutti i bastori e musicanti e che già inoello è vivo non so come dice è visco l'egra che non per già buongastare e dunque tenso ordonato e natale e Luciani è arrivato in casa registrato dunque prende i fondi a tempo e un museo e che si è intenzione Damien? Damien? D'un grande? Damien non ha fatto un disco perché a un museo è assai il figlio e che recupera il mondo e che ha falluto ma ragione ma ragione è ma ragione è il mondo è il down il mondo è ma ragione è ma ragione è ma ragione è quello che è ma ragione è on Grazie a tutti. 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 tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.